La vicenda editoriale anche in Germania di Ilsenkrat è piuttosto travagliata e molto particolare e di questo però ci parlerà Paola Delzoppo perché è lei la germanista, io faccio un altro mestiere, io faccio l'editore e vi posso raccontare perché questo libro è stato scelto e come è stato scelto. Premetto una cosa, io come responsabile editoriale delle edizioni Voland faccio solo i libri che mi piacciono nel senso che credo che uno dei pochissimi vantaggi di fare l'editore consista proprio nel poter scegliere le cose che sono a te più congeniali perché naturalmente non ci sono molti ritorni economici in editoria e dunque almeno un ritorno ideale e di passione ci deve essere. Questo libro poi e quest'autore hanno una strana storia nel nostro piccolo anche per noi. A Francoforte a un certo punto sono stata avvicinata tre o quattro anni fa da un editore francese giovane di una casa editrice piccola ma molto combattiva, le Nouvelle Attila, che è venuto al mio stand e mi ha detto tu sei Voland? Dico sì, io sono Voland. Bene, ho un libro proprio per voi. Dico perché? Perché è un libro bellissimo, difficilissimo, un libro che è duro ma che va fatto assolutamente. a noi, parlava lui in quanto francese e le differenze sono sempre piuttosto grandi fra editoria francese e editoria italiana a noi ci ha aiutato a risollevare la casa editrice. Ne abbiamo stampate all'inizio pochissime copie e poi è andato talmente bene che lo continuiamo a ristampare. Naturalmente mi sono incuriosita, me lo sono letto in francese e devo dire che ho trovato che era un libro assolutamente straordinario. il problema era naturalmente trovare un traduttore altrettanto straordinario e per le traduzioni dal tedesco io collaboro con una traduttrice bravissima che è Roberta Gado che aveva già tradotto qualcosa per noi e le ho scritto e le ho detto senti mi propongono un libro di un tedesco il Senkrat ti interessa? Mi ha detto è il sogno della mia vita tradurre notte non sono mai riuscita a farlo tradurre in italiano quindi due follie si sono incontrate poi se ne è aggiunta una terza naturalmente però come dire ecco io oggi siamo a gennaio del 19 è il giorno della memoria e io in tutta onestà e in tutta semplicità credo che nel 2018 Voland abbia fatto 13 libri molto belli di questi 13 almeno due sono due capolavori uno è Salgenitzin nel primo cerchio la ritraduzione completa del libro che era sparito dalle librerie e anche dalle biblioteche spesso dalla metà degli anni 80 e che noi abbiamo fatto ritradurre nella versione integrale mentre fino alla nostra traduzione girava la versione abbreviata dall'autore e questo è uno dei due capolavori l'altro capolavoro è Notte Notte è un libro di una durezza inimmaginabile ma e sono contenta ora di aver scoperto che Paola la pensa come me non è un libro disperato è un libro terribile ma di una terribilità che è la vita in qualche modo è soprattutto la vita in quel campo in quel momento è la storia di Raneck ma non vi voglio parlare non vi voglio raccontare il libro vi volevo solo dire perché è stato fatto e soprattutto dirvi che secondo me è un libro assolutamente imprescindibile questa è la mia profonda convinzione oggi Paola passo a te per raccontare quello che tu hai percepito di questo libro Buonasera, sì cosa ho percepito? allora intanto a questo punto anch'io racconto l'aneddoto nel senso che io conosco Roberto Agato che è una bravissima traduttrice da un po' di tempo abbastanza tempo e quando mi ha chiesto di scrivere questa postfazione anche io appunto le follie che si uniscono ero felicissima non perché, cioè, nel senso che è un libro molto difficile è un libro che io non pensavo, devo dire la verità che sarebbe arrivato in Italia insomma per adesso quindi grande, veramente grande applauso a Volando ovviamente ed era un libro di cui è interessante scrivere perché, e qui entro direttamente nel vivo è un libro che racconta lo sterminio da un altro punto di vista e cioè da un punto di vista che difficilmente viene accettato per dirla in maniera molto chiara e cioè quello totalmente interno e totalmente umano in realtà della lotta, diciamo così, anche tra le vittime che è una cosa che difficilmente, io questa cosa la scrivo nella postfazione, insomma, un po' sinteticamente ma si capisce che dietro c'è un discorso molto importante è una cosa interessante di sincerità, diciamo, sulla narrazione e la cosa interessante che fa Hilzenkat e che in molti non hanno fatto è utilizzare la fiction, quindi in realtà l'immaginazione la rappresentazione finzionale per raccontare una verità che poi a un certo punto è più vera di molti resoconti è un libro durissimo, è vero e allora io posso dire Roberta è stata molto brava e soprattutto molto molto coraggiosa e molto resistente perché tradurre alcune parti di questo libro insomma, io non c'ero però qualcosina ho seguito e è stato veramente molto molto difficile e leggerle è altrettanto pesante in alcuni casi e però è tanto pesante quanto arricchente cioè usciti in realtà dal tunnel del libro io non ho appunto l'impressione di un libro disperato anzi tutt'altro poi magari parleremo insomma un po' della storia anche del libro però insomma l'impressione che invece dà è di grande forza ed è una forza che è rivolta tutto a noi in realtà non all'interno del libro ma appunto all'esterno cioè a noi proprio che siamo qui e peraltro siamo qui nella giornata della memoria e quindi è una forza che è data anche dalla possibilità di ricordare effettivamente insomma quello che è successo il libro non è ambientato come molti libri appunto in un campo di concentramento bensì in un ghetto dove accadono cose terribili legate alle necessità umane più essenziali e cioè sostanzialmente il freddo e la fame penso che queste sono e il titolo è legato a questo il libro si chiama appunto Notte che è lo stesso titolo anche se insomma ci sono anche lì delle vicissitudini ma insomma il titolo anche pensato dall'autore La Notte tra l'altro è sia come titolo di libri proprio che come figura simbolica insomma ricorrente negli autori anche di cultura ebraica per tanti motivi anche come simbolo stesso come simbologia stessa dello sterminio però La Notte è importante e il titolo a questo è dovuto perché è il momento in cui nel ghetto si vivono gli eventi più difficili più duri più tremendi che vuol dire soffrire la fame? allora cerco di fare chiarezza anche perché appunto non so insomma il ghetto è un ghetto è un ghetto realistico perché effettivamente Hilserat ha passato degli anni in un ghetto degli anni della sua infanzia o perlomeno della sua giovinezza prima giovinezza che ovviamente ha fatto fatica a rielaborare vivere in un ghetto vuol dire non avere spazio per sé non avere spazio per le relazioni non avere solitudine più gli eventi della guerra andavano avanti più era difficile vivere nei ghetti meno beni essenziali c'erano più ovviamente era difficile procurarsene questo vuol dire non c'erano vestiti nei posti dove fa freddo non c'erano vestiti bisognava procurarsi in tutti i modi possibili dei vestiti e questo vuol dire non avere da mangiare ma non avere da mangiare si intende proprio non avere niente da mangiare cioè non so perché altrimenti sembra insomma un modo un po' eccessivo no veramente non avere nulla da mangiare il protagonista lotta con il freddo e con la fame fin dal primo dalla prima pagina di questo libro e fino alla fine vuol dire anche se ci sono malattie non potersi curare e se ci sono eventi difficili da gestire per esempio a un certo punto nel libro c'è un parto non si sa come svolgere come portare a termine queste operazioni così complicate insomma vuol dire non avere effettivamente la sussistenza minima questo porta ovviamente nel libro diventa anche un espediente narrativo nel senso che ciò che porta avanti la narrazione sono le difficoltà come in un qualunque romanzo mi viene da dire storico epico insomma quindi anche un po' il respiro del romanzo storico in realtà questo però al di là del pretesto narrativo lo sviluppo dei vari personaggi è legato effettivamente al loro incontro con queste difficoltà che sono difficoltà diciamo forse per noi inconcepibili ma apparentemente comunque insormontabili leggo l'inizio l'incipit del libro se siete d'accordo solo una pagina prima di leggere l'incipit del libro ci dici le difficoltà che il libro ha vissuto non in Italia ma in Germania paradossalmente soprattutto per essere pubblicato la prima pubblicazione in effetti non avviene in Germania la prima pubblicazione in realtà avviene in lingua inglese poi il libro viene pubblicato in Germania da un editore che apre una casa editrice appositamente per pubblicare il libro il libro ovviamente essendo un libro difficile e poi vediamo perché non è stato inizialmente curato diciamo così nella maniera più corretta e quindi vede effettivamente anche una ricezione critica complicata ricezione critica in Germania non ci immaginiamo quello che succede ora in Italia è anche una ricezione di massa di fatto e in realtà appunto il libro viene molto criticato all'inizio anche per motivi oggettivi in un secondo momento in realtà prevalentemente perché era un libro difficile da collocare all'interno del mercato delle lettere tedesco dopodiché il libro viene ripubblicato un'altra volta negli anni 70 la fine degli anni 70 80 e nel frattempo l'autore premetto questo non è l'unico libro di Hilsner questo non l'abbiamo detto oltre a Orgasmo a Mosca uscito per altro per Voland ci sono altri libri alcuni non tutti ancora tradotti in italiano ma insomma altri ne verranno e l'autore è effettivamente poi diventato un autore questo è però un libro particolare perché è stato composto in maniera molto difficoltosa per tanti motivi sia dal punto di vista psicologico e questo si riflette un po' sulla stesura del libro sia dal punto di vista proprio oggettivo cioè Hilsner soffriva soffrì anche dopo la guerra di gravi difficoltà economiche e personali per cui scrisse questo libro sostanzialmente dove capitava nei caffè bevendo insomma fumando in maniera eccessiva e raccolse queste 600 pagine di manoscritto che poi appunto propose agli editori lo rifiutarono fu pubblicato in America poi in Germania e poi mano a mano venne tradotto in altre lingue ma qui siamo già arrivati alla fine del secolo sostanzialmente in Germania ha visto tre edizioni effettivamente e solo verso diciamo la terza edizione si è cominciato a avere un riconoscimento del testo come come libro come letteratura tedesca insomma in un certo senso e teniamo presente questo lo dico senza nessun intento particolarmente critico che uno dei problemi era proprio interno alla critica io accenno a questa cosa e cioè la questione della raccontabilità dello sterminio è una cosa con cui ancora facciamo i conti e all'epoca era un problema che riguardava anche le due Germanie cioè dopo la seconda guerra mondiale come sappiamo le Germanie sono state divise la Germania è stata divisa in due e il problema della rielaborazione o del potere in qualche modo accettare o condannare insomma accettandolo ciò che era accaduto è stato gestito in maniera differente nella Red Air e nella Germania Ovest e quindi questo comportava una specie di canone del racconto della Shoah o dell'Olocausto o dello sterminio e a me l'Olocausto non piace molto quindi preferisco Shoah o sterminio e che considerava diciamo così l'unica via del racconto possibile quella del resoconto oggettivo allora da una parte c'è da dire che è difficilissimo ovviamente anche quello che noi appunto consideriamo resoconto oggettivo capite bene che forse non lo era insomma del tutto dall'altra questo era un vero e proprio problema critico e cioè quindi i libri che in qualche modo finzionalizzavano la vita nel campo di concentramento o come questo insomma la vita in un ghetto come andavano considerati di solito venivano accantonati semplicemente e molto più spesso non pubblicati come è capitato a questo e ad altri libri in realtà finché piano piano insomma l'opinione pubblica e la critica non si sono mossi in direzioni diverse molto piano si parlava addirittura di insomma di una sorta di antisemitismo al contrario cioè bisognava necessariamente proporre lo stereotipo dell'ebreo buono cosa che qui non accade affatto per fare ammenda di ciò che era successo insomma peraltro questo testo non è ambientato nei territori della Germania ma è ambientato in un territorio che sostanzialmente è rumeno cioè della Romania e anche qui insomma si apre un'altra parentesi enorme che non apriamo ovviamente ma di come poi effettivamente invece ci sia stato insomma una sorta di doppio sterminio insomma anche in quei territori più ad est rispetto insomma alla Germania e appunto di tutto questo ha sofferto il libro e non ne ha mai giovato questa è una cosa interessante nel senso che ci sono dei libri che poi invece a un certo punto si sono posti come controcanone rispetto a questo discorso del realismo narrativo sullo sterminio però invece questo libro non ha mai giovato neanche della ricollocazione grazie appunto all'esaltazione poi della possibilità di raccontare per tantissimi motivi tra cui sicuramente la crudezza del testo in questo caso che è una cosa che noi invece adesso riusciamo ad apprezzare perché sono cambiate anche è cambiata la nostra percezione rispetto al modo di raccontare insomma si tratta di un discorso critico ampio questo era un libro che anticipava ai tempi moltissimo ecco moltissimo però mi fermo su questo che vado leggo così perché volevo entrare nel testo perché insomma appunto dell'interesse insomma anche della traduzione di sentirlo in italiano entro nel testo perché altrimenti poi si rischia di parlare solo dal punto di vista critico mentre invece questo è un testo che va necessariamente letto e leggo solo l'incipit l'uomo era entrato piano piano come se avesse paura di svegliare i morti la stanza era immersa nella penombra poco per volta gli occhi si abituarono e i contorni dei lunghi pancacci divennero più distinti erano stesi lì i più erano morti di tifo nel corso della settimana alcuni respiravano ancora ma erano troppo deboli per muoversi nell'angolo in fondo c'era un unico posto vuoto proprio sotto la finestra senza vetri era il suo trafficò con la giacca nel punto in cui era fissata la stella giallo sporco da ebreo si era un po' staccata la resistemò condita nervose perché era tornato a casa? una cosa da pazzi completi no quella notte non poteva più restarci era tutto contaminato doveva cercare di dormire altrove ispezionò con lo sguardo la stanza fino alla stufa di ghisa dove erano rimasti un paiollo d'acqua e una scodella vuota incrostata e oltre fino alla porta socchiusa da cui si scorgeva un pezzo di strada bagnata uno squarcio della città fratica di pioggia riandò alla porta ma mentre impugnava già la maniglia gli balenò in mente qualcosa che lo fece voltare e tornare indietro Nathan disse con voce rauca devo chiederti un ultimo favore Nathan rispose l'uomo esaminò i piedi del morto avvolti in pezze lacci come i suoi i lacci sono ancora buoni pensò non lisi come i tuoi le pezze non valgono granché ma quantomeno sono asciutte e si possono usare di ricambio non ci rimogginò a lungo sciolse i lacci e li mise via svolse le pezze dai piedi rigidi le dite erano divaricate a zampa di cornacchia e se le infilò in tasca lo fece senza riduttanza Nathan era stato il suo migliore amico era più che naturale ereditare le sue cose prima di andare prese il cappello del morto se lo calcò in testa e buttò in terra con non curanza il proprio non volermene Nathan disse non volermene se ti prendo anche il cappello ma il mio non tiene più l'acqua abbozzò un sorriso evitò di guardarlo un'ultima volta e se ne andò è un incipit abbastanza fulminante secondo me è interessante ci sarebbe tantissimo da dire anche solo su queste due pagine però insomma l'autore è proprio come un'inquadratura di una telecamera e ci porta direttamente all'interno del insomma dell'ambiente direttamente vicino a quello che è il protagonista cioè noi entriamo vicinissimi a lui dapprima diciamo con una specie di focalizzazione interna esterna cosa che peraltro poi continuerà per tutto il libro e poi invece vediamo in realtà il protagonista un po' più da fuori perché lo sentiamo parlare e quello che accade si capisce molto bene il protagonista ha perso il suo migliore amico che è morto probabilmente di stenti e di fame di tifo dice anche a un certo punto è malato e però si trova costretto a rubargli diciamo degli ultimi averi ora questo è molto significativo la parola morte arriva peraltro verso la fine del brano non so se ci avete fatto caso noi capiamo insieme al protagonista che Nathan non c'è più non perché lui non lo sappia ma perché lui lo deve realizzare in un certo senso deve riuscire a concepire insomma questa morte perché appunto il protagonista non è per niente un essere disumano come si potrebbe pensare al contrario tutto il testo è legato a questa a questa sua voglia o questa sua voglia questa sua in realtà impossibilità di diventare disumano cioè quasi un suo bisogno quello di non sentire più nulla invece lui continuerà a provare dolore per tutto quello che accade e lungo tutto il testo nonostante tutto ciò che fa e nonostante le cose che insomma che succedono e questa è una delle delle scene insomma che poi si ripeteranno ci sono diverse scene di morte che però sono in realtà compongono una sorta di quadro io questa cosa poi l'ho scritta perché l'immagine che porta è proprio una sorta di trionfo della morte ma alla Bruegel quindi insomma il grottesco giocato in questo modo è un quadro che a noi serve e che vediamo appunto solo alla fine cioè alla fine noi riusciamo a vedere l'immagine di quello che sì di quello che Hilsenrat voleva farci vedere e cioè innanzitutto che noi siamo fuori da questo quadro e questa è una cosa davvero importantissima che va tenuta presente e che è molto diversa dai racconti che invece tendono all'immedesimazione dell'osterminio che tendono all'immedesimazione Hilsenrat non gioca su questo lui è molto rispettoso del lettore non vuole che ci immedesimiamo vuole che rimaniamo sempre fuori e che soffriamo per quello che accade nel libro eventualmente per prendere poi una posizione quindi esattamente quello che si fa appunto con la giornata e la memoria peraltro inserisce un sacco di personaggi all'interno del testo che sono tutti sempre legati e sempre distanti dalla morte costantemente anche quelli che poi alcuni di loro insomma a un certo punto moriranno non vi dico chi non perché sicuramente sia un libro di suspanza ma perché invece è importante viverlo insomma con il protagonista e quello che appunto accade all'interno del testo è che noi mano a mano peraltro lui ci muove dentro e fuori continuamente anche geograficamente cioè noi ci muoviamo anche se tutto il racconto è nel ghetto in realtà in vari modi lui riesce a muovere il nostro sguardo a portarci fuori a riportarci dentro a farci entrare negli ambienti a riportarci fuori con essenza di lui quindi giocando continuamente con un sistema di focalizzazione molto ambiguo sono tutte cose che appunto all'inizio non erano state apprezzate o capite ci si aspettavano una narrazione molto più lineare mentre invece questo romanzo che insomma effettivamente è dei nostri giorni più forse che di 50 anni fa da qui la narrazione prende il via noi non facciamo altro che seguire il narratore insomma il protagonista all'interno del racconto il protagonista prova dei sentimenti molto forti in particolare ci sono diverse donne all'interno del testo ce n'è una in particolare non abbiamo moltissimo tempo quindi mi focalizzo subito su di lei che è il vero la vera luce di tutto il racconto il suo nome è Deborah tra l'altro è un nome significativo insomma all'interno della cultura ebraica come lo è anche Nathan che vediamo fin dall'inizio insomma che non è solo un nome significativo per la cultura ebraica ma anche per la cultura ebraica di lingua tedesca perché appunto è il nome del protagonista di una famosissima pièce di Lessing Deborah è l'unica che non perde mai la speranza non solo non la perde ma lo fa presente continuamente ha il coraggio di dire che non perde mai la speranza e ha il coraggio di dire perché non bisogna perdere mai la speranza che è una cosa che manca totalmente a tutti gli altri insomma a tutti gli altri personaggi del racconto io credo che in qualche modo anche Raneck non perda mai la speranza in qualche modo anche Raneck dimostra una forza e una volontà di sopravvivere che è straordinaria che è quello che ti turba e ti e ti fa piangere lacrime e disperate in qualche modo nella lettura del libro perché lui è lì io poi naturalmente è vero non è un libro di suspense tant'è vero che come dire come si diceva all'inizio io sono fortemente tentata di leggervi l'ultima frase del romanzo che non si fa mai anzi io minaccio in genere gli autori o i traduttori che leggono e dicono la fine di un romanzo però questo è un romanzo del tutto particolare non ha nessuna come dire rilevanza in qualche modo se non farci capire che poi nonostante pagine difficili da sopportare io ho 73 anni faccio da 25 anni l'editore ho pianto come un vitello leggendo questo libro in traduzione e lo confesso perché secondo me la letteratura questo deve fare questo deve provocare cioè la letteratura non è consolazione quando è vera letteratura e però l'immersione in questo mondo può essere così profonda che poi alla fine una frase di speranza al lettore gliela devi dare in qualche modo per questo poi a grande richiesta voi mi direte se la volete sentire la frase finale di Deborah non a caso appunto e solo questo cioè secondo me anche Raneck non perde la speranza anzi lotta Raneck è un lottatore vero appunto come dicevo prima lui vorrebbe perderla ma non ci riesce cioè è talmente umano che proprio non può ed è questa effettivamente diciamo ci sono sicuramente i tratti autobiografici in questo insomma nel personaggio però questo è un messaggio fortissimo che è in realtà un messaggio molto legato all'idea di letteratura che aveva Hidzengat e forse insomma che abbiamo un po' anche noi e c'è quello che la letteratura a questo serve cioè anche a ricordarci perché siamo umani e quante cose possiamo fare prima di arrenderci diciamo così all'evidenza e no Raneck non si arrende mai e quello che accade in realtà sembra continuamente appunto essere l'ultima cosa ah vabbè io leggo il libro no ah vabbè dopo questo basta non ce la farà più ah dopo questo invece non è vero cioè ogni volta lui ricomincia peraltro accontentandosi di cose minime appunto delle mele o insomma qualunque cosa da mangiare a un certo punto Deborah che è la la moglie del fratello il quale fratello questo lo possiamo dire tanto insomma a un certo punto muore e quindi lui si occupa di lei anche in maniera legittima diciamo in un certo senso ma lui è sempre anche questo è lasciato un po' però insomma è sempre stato innamorato di Deborah comunque prova per lei un sentimento fortissimo perché lei rappresenta proprio il suo legame con l'umanità ma da prima di entrare nel ghetto non è una cosa che riguarda il ghetto nel senso lei è sempre stata una sorta di tramite per i sentimenti e quindi all'arrivo di Deborah lui è ancora più spronato a cercare da mangiare a cercare un posto per cui anche lei possa stare bene addirittura a un certo punto sembra si stabilisca una sorta di vita normale per quanto possa essere normale però insomma una quotidianità che può essere portata avanti è interessante che Hilsegat abbia scelto Deborah come simbolo di tutto questo perché in realtà nel libro le donne non vengono trattate benissimo diciamo così come anche in altri libri di Hilsegat però insomma qui in particolare il protagonista tra l'altro fa lo scrittore quindi Hilsegat dà al protagonista diciamo così una menomazione nel senso lui è impotente questa cosa all'interno del libro è particolarmente importante perché rappresenta ovviamente l'impossibilità di avere relazioni con le donne questo è un discorso molto complesso che però viene utilizzato all'interno del libro più volte per rovesciare continuamente la possibilità appunto di Raneck di essere o non essere umano e quando lui prova a comportarsi male quindi a violentare una ragazza ovviamente non può ma questo per lui è un modo per dire io cioè non è un modo per dire io sono disumano ma un modo per dire sono anch'io umano mi comporto come tutti gli altri umani che sono in questo in questo chetto perché lui in realtà non ci riesce non riesce neanche essere cattivo cioè questa è una cosa anche particolare cioè in realtà non solo lui non perde la speranza ma proprio per questo lui non riesce mai a essere veramente cattivo e anche se fa delle cose che per noi possono essere cattive o sembrare cattive o che noi comunque non faremmo mai in realtà lui non riesce a essere veramente cattivo e questo non lo percepiamo fino alla fine del testo e infatti Deborah che rappresenta appunto in questo caso una sorta di faro di luce appunto morale e lo apprezza per quello che fa non lo condanna mai e questo poi è secondo me anche legato al senso profondo del testo insomma la non condanna in un certo modo di chi si è comportato per necessità male tra virgolette e io sono d'accordo comunque che andrebbe letta la fine del libro perché è una frase importante sì io l'unica cosa sulla quale non so se sono del tutto d'accordo è che noi non faremmo mai perché nessuno di noi può sapere che cosa farebbe e che cosa non farebbe posto in condizioni di disumanità e questa credo che sia anche questa una delle lezioni del libro in qualche modo nessuno giudica nessun altro perché perché non è dato agli esseri umani giudicare che cosa si può fare in condizioni disumane questo questo io l'ho sentito profondamente Raneck non giudica mai nessuno e neanche Deborah giudica mai nessuno nessuno giudica nessuno forse sono gli altri quelli che fanno le cose che noi giudicheremmo a giudicare no è complessa la situazione del libro devo dire e leggi l'ultima frase così così un attimo ci stacchiamo inciampò ritrovò l'equilibrio il bambino si svegliò aprì gli occhi e sorrise con il faccino grigio si riaddormentò subito Deborah lo strinse forte a sé come se temesse di perderlo adesso andiamo nel cortile del bordello gli disse ci sistemeremo di nuovo sulle scale della cantina non ci manderanno via come hanno mandato via lui noi due siamo sani stanotte non farà molto freddo e domattina cercheremo un posto migliore non devi avere paura troveremo qualcosa di sicuro rimedirò anche da mangiare gli sorrise non devi avere paura ripete la mamma si prenderà cura di te è una frase bellissima ci voleva che poi si penso che che ci volesse l'ultima frase no qualcuno di voi ha delle domande in proposito è tedesco di dove per favore vorrei sapere se l'autore di dove è tedesco di dove e anche se il libro è autobiografico il ghetto dove intanto per avere qualche piccola informazione è di lingua tedesca diciamo adesso essere tedeschi ovviamente nel senso si è nato in Austria cioè in Austria in quelli che erano i territori dell'impero austro-ungarico per motivi insomma legati alla persecuzione la famiglia si spostò più ad est e però appunto poi invece insomma gli eventi li raggiunsero in qualche modo e comunque si la prima lingua è sicuramente il tedesco insomma dell'autore dove è ambientato il libro no allora questo è molto complicato da dire sempre per i libri in generale ci sono sicuramente dei tratti autobiografici nel senso che l'autore ha avuto l'esperienza del ghetto per diversi anni appunto dopo essere con la famiglia insomma dopo essere fuggiti più verso est sono stati comunque insomma internati in un ghetto questo va beh gli eventi appunto sono quello che sappiamo e lui è rimasto nel ghetto mi sembra per tre anni o quattro anni si è salvato si è salvato però insomma i segni sono rimasti non sappiamo né possiamo sapere quanto ci sia di autobiografico non vuole essere un libro autobiografico non è stato stretto del termine ma appunto invece vuole lavorare sulla rielaborazione letteraria degli eventi insomma che gli sono comunque accaduti o che ha visto o che ha potuto percepire non possiamo davvero sapere fino a che punto poi insomma la narrazione realistica questa è una delle critiche che venivano fatte all'epoca e che invece noi possiamo vedere completamente rovesciato e cioè l'esaltazione appunto come in un quadro di Bruegel la deformazione o l'esaltazione di alcune figure di alcuni simboli in realtà servono proprio per mettere in risalto quello che davvero succedeva sì comunque lui dalla nota biografica è un ebreo di lingua tedesca di ottima estrazione sociale cioè i genitori avevano un negozio o commercianti di alto livello e naturalmente poi il livello naturalmente è diventato infimo e lui quando scoppia la guerra se io ricordo bene viene mandato dal padre in Bessarabia dalla famiglia dei nonni materni dove passa alcuni anni tutto sommato tranquillo ma poi anche in Romania la situazione si capovolge e quindi l'esperienza del ghetto lui la vive in Romania lui cambia il nome del ghetto e lo chiama Moghilo forse o qualcosa del genere cambia il nome del ghetto ma la collocazione è quella la Romania la Transnistria lungo il fiume Nistra Nistro che peraltro è un fiume molto presente all'interno del libro rappresenta un confine ma rappresenta anche diciamo in negativo simbolicamente la morte per acqua che non è la morte purificatrice ma invece una morte che appunto non riesce ad assorbire insomma la bruttezza di quello che accade c'è in diversi ecco è un simbolo letterario tipico però insomma in questo libro è particolarmente forte insomma rappresenta proprio il dolore che non passa nonostante il fiume passi ci sono altre domande? io posso dire l'ultima cosa sulla speranza insomma io ho letto questa ultima frase in cui non so se avete fatto caso torna spessissimo torna due volte o tre volte addirittura Deborah dice non avere paura non avere paura è una frase che lei in realtà rivolgeva anche a Raneck e che spesso in qualche modo lei esprime anche in altre occasioni e che è poi effettivamente appunto il messaggio più importante cioè non è tanto la disperazione ma il fatto che si potesse non avere paura non perché le cose brutte non accadono ma perché a un certo punto ci sarà la liberazione da tutto quello che è brutto che è la più grande fede di Deborah per tutto il testo e che poi effettivamente a un certo punto si avvera insomma quindi non è sicuramente un finale cioè non è un lieto fine ma è comunque un finale che dà una grande speranza in cui peraltro sono presenti una donna con un bambino che non è suo questo lo dico e che però effettivamente diventa il suo bambino cioè la diventa la madre di questo bambino e probabilmente conoscendo Deborah noi sappiamo che se ne occuperà più di se stessa insomma quindi è molto finale insomma molto bello secondo me non so se vi abbiamo convinti del fatto che è un capolavoro io spero di sì perché ne sono assolutamente convinta in prima persona io penso e spero quando quando poi ho deciso di fare Ilsenkrat ho iniziato da un altro libro coscientemente che si chiama Orgasmo a Mosca il primo che noi abbiamo fatto tradurre sempre da Roberta sempre bravissima per due motivi perché c'era Mosca di mezzo e quindi io non me lo potevo lasciare sfuggire in qualche modo e poi perché speravo che in realtà come dire ci si avvicinasse a questo enorme scrittore attraverso attraverso un romanzo sicuramente più semplice più più divertente anche perché lui l'autore anche in notte riesce a mettere delle delle situazioni che rasentano il divertimento cioè il grottesco sicuramente ma anche la risata liberatoria in qualche momento credo che sia davvero un autore straordinario che sempre per tornare nel discorso del grottesco se vogliamo è morto esattamente nello stesso giorno in cui è morto Amos Oz e quindi tutti i giornali hanno parlato solo della morte di Oz mentre Ilsen Krattacher era morto a 94 anni quindi come dire di per sé se vogliamo non è un libro autobiografico visto che l'autore sopravvive invece alle vicende del ghetto quindi come dire è morto mi sembra il 30 di dicembre il 30 dicembre e è stato ancora una volta come dire sopraffatto da un altro autore israeliano che è morto nello stesso giorno che ha preso tutto lo spazio sui giornali credo che solo Corriere della Sera abbia dedicato a Ilsen Kratt alla sua morte un piccolo trafiletto con foto dell'autore mentre ecco l'altra l'altra piccolissima soddisfazione è che un giornalista italiano che è Sebastiano Triulzi è stato l'ultimo giornalista a fare un'intervista a Edgar prima della morte proprio per l'uscita di notte e questa è la storia di questo libro e di quest'autore per il momento che speriamo di continuare a fare devo dire la verità però bisogna che i lettori ci aiutino perché in editoria devono combaciare un paio di cose perlomeno la qualità sì almeno due la qualità ma anche non rimetterci proprio le penne diciamo così peraltro la cosa che mi ha molto colpito nelle notizie biografiche eccetera il primo la prima tiratura di Ilsenkrat in Germania se non sbaglio è stata di 1200 copie che è più o meno la nostra e di queste 1200 copie 700 ne sono state vendute la prima tiratura e poi è diventato un classico e dunque le vicende editoriali sono state diverse però anche in un posto come la Germania dove invece legge l'82% della popolazione se non ricordo male cioè praticamente un po' più del doppio e la prima tiratura di Ilsenkrat è misteriosamente coincisa con la nostra io lo vedo come una specie di segno del destino forse forse finalmente riuscirà avere una vita editoriale anche in Italia va bene su questa nota editoriale vi ringrazio grazie di essere stati qui e grazie a Daniela per avermi invitato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti